16 agosto 1969, tre giorni che cambiarono la storia della musica, della musica rock. Il gruppo che Maria ora vi presenterà vi farà ascoltare due artisti che fanno parte della storia del rock e soprattutto furono protagonisti a Hustock. Il più grande chitarrista di tutti i tempi si esibì alle 3 del mattino, quando delle 500.000 persone 200.000 se ne erano già andate e in maniera provocatoria iniziò la sua performance con l'inno americano con la sua Fender Stratocaster, è il più grande di tutti, era mancino e per questo aveva delle possibilità di interpretare le note in un certo modo. Jimi Hendrix e poi lei, l'usignolo di Hustock, sempre vicino agli ultimi, paladina dei diritti umani, come del resto il suo compagno di vita e di musica, Bob Dylan, John Beitz. Alla voce Eva Pistolesi, al piano Massimo D'Afrassini, Andrea Cerretani alla chitarra, Gianni Meattini al basso e Alessandro Brigidi alla batteria. Ci canteranno We Shall Overcome di John Bates, Little Wing di Jimi Hendrix. We Shall Overcome We Shall Overcome We Shall Overcome Someday We Shall Overcome Oh, Deep in my heart I know that I do believe We Shall Overcome We Shall Overcome Someday We Walk Hand in Hand We Walk We Walk Hand in Hand We Walk Hand in Hand We Walk Someday Oh, Deep in my heart I know I know that I do believe I know that I do believe We Shall Overcome We Shall Overcome Someday We Will đồng We Shall Overcome face We Shall Overcome creative adian weervice Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie.